Sposa bagnata, sposa fortunata, ma per Capodanno non vale. Musica e tanto atteso spettacolo delle fontane danzanti, previsti a Lecco nella notte di San Silvestro, sono stati annullati. L'opposizione in consiglio comunale punta il dito contro l'assessore all'attrattività Giovanni Cattaneo e l'associazione Arti Libere, che ha vinto il bando per il villaggio di San Nicolò e proposto di organizzare anche Capodanno. Presenterò in consiglio una richiesta di chiarimenti, dicono Cinzia Bettega e Corrado Valsecchi, rispettivamente capigruppo di Lega e appello per Lecco. Per fortuna, aggiunge Valsecchi, gli amici di Lecco hanno salvato l'atmosfera. La scusante del maltempo non vale, interviene anche Giacomo Zamperini, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. Alle 22 il cielo si era serenato e la festa poteva essere fatta. Mentre Varenna è riuscita a salvare la serata alle 23 con Musica Live in piazza San Giorgio, chi sperava di festeggiare in centro Lecco, si è rifugiato nei locali o si è consolato con il brindisi proposto dai gestori della pista del ghiaccio, che era avvivato la nottata. L'associazione organizzatrice non si è resa disponibile per fornire la propria versione dei fatti, mentre l'assessore Cattaneo ha chiarito, non stava scritto da nessuna parte nel bando di affidamento del villaggio di San Nicolò, che l'associazione di arti libere dovesse animare l'ultimo dell'anno. Si era poi offerta di fare le fontane danzanti un DJ set annullate con espresso comunicato stampa del comune nei giorni precedenti, il 31 dicembre, per il previsto maltempo. Abbiamo scelto di non fare feste pubbliche organizzate dal comune, prosegue per dare spazio alle tante iniziative private che infatti si sono svolte in quella notte. E se ai locali che gli alberghi erano pieni, ciò vuol dire che l'attrattività c'era e altre cose sono un di più.